Rispetto al collegio è una struttura residenziale che offre la possibilità quindi ai ragazzi di rimanere a studiare durante la settimana. Indicativamente come numeri quest'anno su 195 lievi sono presenti 140 convittori. Ovviamente questa scuola offre la possibilità a chi ha problemi nel trasferimento da una parte. Dall'altra parte è una scuola che richiede un orario pieno, quindi ci sono tre giornate piene di lavoro e per quanto riguarda il corso professionale le attività vengono svolte anche alla sera presso il caseificio. Quindi capite che come orari c'è il bisogno di avere una struttura che possa ospitare i ragazzi. A livello proprio generale ancora i ragazzi sono organizzati in classi, ogni classe è seguita da un educatore che ne cura tutta la parte del percorso educativo di crescita. Quindi dalla parte relazionale dell'incontro con l'altro alla parte dello studio. Per quanto riguarda lo studio, nel corso degli anni abbiamo elaborato un modello, anche grazie alla supervisione di un docente universitario dell'Università Bicocca di Milano, un modello di ricerca sociale che abbiamo definito studio sociale. In che cosa consiste lo studio sociale? Una particolarità dell'esperienza dell'Istituto Agricola e in particolare del collegio. è la possibilità di fare emergere dall'incontro dei ragazzi l'esperienza e il confronto soprattutto a livello di studio. Nel senso che lo studio viene organizzato su fasi differenti, c'è una fase di studio individuale, c'è una fase di studio di gruppo, che appunto definiamo studio sociale, dove il gruppo non è rilegato alla semplice classe, ma il ragazzo di prima A può studiare insieme al ragazzo di prima B, piuttosto che se ci sono delle difficoltà può intervenire il ragazzo di seconda o di terza o di quarta per gestire dei gruppi di studio. Questi gruppi di studio sono fortemente orientati dagli educatori a fronte delle difficoltà che si manifestano, perché soprattutto nella prima parte dell'esperienza dell'agricola emergono difficoltà in matematica, in chimica, in quelle che sono materie nuove e quindi hanno bisogno di un supporto ulteriore. Grande parte è riservata anche per quanto riguarda la filosofia di lavoro, una filosofia pedagogica, è centrata proprio sulla collaborazione tra collegio e famiglia. Ci deve essere un patto educativo forte, è molto curata l'aspetto dell'accoglienza, ma tutte le attenzioni nel percorso. Quindi il collegio è una struttura che opera 24 ore al giorno, nel senso che c'è anche la garanzia di un controllo notturno da parte di alcuni educatori, per cui ci sono tutti i momenti che possono essere utili per un confronto serrato con la famiglia, perché l'esperienza forte che proponiamo è proprio quella della extrafamiliarità. Esperienze che si stanno un po' perdendo, non c'è più un servizio militare, non ci sono più tante possibilità di fare esperienze lontane dalle famiglie, ma sono proprio quelle esperienze che permettono una crescita anche personale, individuale, di ogni singolo allievo. E' per questo che oltre al lavoro con le famiglie ci richiede molto impegno, soprattutto negli ultimi anni, è stato affiancato anche uno sportello di consulenza psicologica. Laddove si trovano, si individuano delle difficoltà a livello relazionale e a livello familiare, l'Istituto Agricol mette a disposizione anche lo sguardo esperto di una consulente che collabora strettamente con la famiglia e collabora strettamente con l'equip degli educatori e degli insegnanti. Abbiamo avuto molte richieste negli ultimi anni, tanto che abbiamo in qualche modo cercato di far fronte a questi bisogni della famiglia, grazie anche all'amministrazione regionale che ha messo a disposizione una struttura di Monflery dove vengono ospitati i ragazzi più grandi, di terza, quarta e quinta, proprio per far fronte a questa esigenza sociale di curare non soltanto la parte di problematiche, di disagi, ma anche e soprattutto la parte dello studio che viene assistito e controllato e gestito dall'equip del collegio. Nel corso degli ultimi anni soprattutto è stato inserito il percorso professionale che ha delineato una sua caratteristica per cui abbiamo dovuto lavorare anche sui nuovi bisogni dei ragazzi che frequentano questo corso. Quindi è un sistema che è in continua evoluzione, in continua ricerca, proprio per dare e offrire un servizio adeguato, un servizio migliore. Ecco un altro punto che si cerca di garantire la qualità, la qualità non soltanto della produzione dei vini, della frutta, ma la qualità nelle relazioni. È per questo che le cose cerchiamo di farle, non soltanto farle, ma farle al meglio possibile.